Ma ve la butto lì, siamo su questo profilo 30.000 aziende, forse anche di più. Io parlo con voi da tempo, ho 20.000 contatti vostri salvati sui miei file da parte. Ho parlato prima con Vito in Emilia Romagna, ho sentito altri amici, ho parlato con Gianluca in Molise, ho parlato con Matteo, ho sentito Jonathan prima, ma non gliel'ho anticipato perché abbiamo parlato di altro. In ogni regione, ognuno di noi ha gli uffici, in ogni provincia si può aprire un ufficio. Di media i consorsi che abbiamo in Italia hanno delle aziende iscritte, ma non superano i 200-300 imprese. Noi possiamo fare una rete che non ce n'è per nessuno. E basta poco. Iniziamo a ramificarci. Io vi passo i contatti tra di voi. Emilia Romagna, 10-20 imprese, 10 di qua, 10 di là. Ci troviamo e valutiamo il da farsi. Scusatemi, ma sono stanco la lingua che si perde in mezzo ai denti. Che cosa ci porta questo? A diventare forti. Senza rischio. Perché inizialmente basta solamente utilizzare i nostri uffici, dove ognuno di noi mette una quota, come la mettete voi la metto io, la mettiamo tutti. Io avrei solo piacere di fare il portavoce, perché è ciò che mi piace fare. Voi lo sapete che nell'arco di poco tempo verranno le banche a chiederci se abbiamo bisogno di loro? E poi un giorno arriveranno anche i politici, perché gli serviranno i nostri voti. E noi, posso farlo? O faccio questo qua? Almeno non lo bloccano. Pensateci, rispondete sotto a questo video, perché io sto già ramificando il tutto. Ne abbiamo già parlato tempo addietro e poi si è bloccata lì la cosa, perché comunque il bonus ci ha drogato a tutti quanti, tutti in botta piena. Vai, ormai stiamo diventando miliardari da un giorno all'altro. Io ho un grosso potere qui. Posso unirvi regione per regione, dalla Valle d'Aosta al Trentino, a dove volete. Possiamo unire il sistema, ramificarlo e spaccare il culo. Tanto non ci costa niente farci una chiacchierata. Tanti di voi mi dicono, e ora io che cazzo faccio? Parliamone, valutiamo, mettiamo qualche commercialista di mezzo, non Pino. Pino fa il portavoce. Iniziate a parlare anche voi. Cerchiamo di definire cose serie, cose sensate, ma non con i soliti chiacchieroni, fai lo splendido, lasciamo perdere la gente che non serve. Iniziamo a sentire, visto che ci sono avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, a sentire una bella chiacchierata solida di gente seria, non di cazzate, perché le cazzate, ci sono video dove sono cazzate, ma quando si fanno le cose serie bisogna portare avanti il tutto. Cioè noi siamo capaci, ragazzi, veramente nell'arco di poco a creare un consorzio con 5.000 aziende su tutta la nazione, dove va a prendere tutto, qualsiasi cosa, perché ne abbiamo la forza per farlo. E io sono qui per voi, quindi pensateci.